il racconto della signorina nn nove anni fa un giorno poco prima di sera al tempo della falciatura io e piotr segheic che esplicava le funzioni di giudice e istruttore ci recammo a cavallo alla stazione postale a ritirare le lettere il tempo era splendido ma al ritorno udimmo il rumoreggiare del tuono e vedemmo una nuvola nera e minacciosa che veniva dritto su di noi la nube si avvicinava a noi e noi a lei sul suo fondo biancheggiavano la nostra casa e una chiesa e dai pioppi alti spiccavano come d'argento si sentiva l'odore della pioggia e del fieno il mio compagno era in vena rideva e diceva ogni sorta di sciocchezzuole diceva che non sarebbe stato male se avessimo incontrato un castello medievale con le sue torri merlate col musco e le civette per poi per poterci riparare dalla pioggia e alla fine delle fini essere uccisi dal fulmine ed ecco sulla segala e sul campo d'avena trascorse la prima onda soffiò violentemente il vento e nell'aria cominciò a turbinare la polvere pieter sergeiet scoppiò a ridere spronò il cavallo bene gridava benissimo io contagiata dalla sua allegria e dal pensiero che mi sarei bagnata fino all'ossa e forse sarei stata uccisa da un fulmine mi misi a ridere anch'io il turbine e la rapida corsa quando il vento ti soffoca e ti senti come un uccello ti agitano e ti solleticano nel petto quando entrammo nel nostro cortile il vento era cessato e grossi scrosci di pioggia battevano sull'erbe e sui tetti presso la scuderia non c'era anima viva pieter sergeiet stesso dissellò i cavalli e li condusse alla mangiatoia aspettando che egli finisse rimasi sulla soglia guardando fisso i fili obliqui della pioggia il dolciastro eccitante odore del fieno si sentiva qui più acuto che nei campi a causa della pioggia e delle nubi c'era un buio crepuscolare che colpo disse pieter sergei avvicinandosi dopo un rombo di tuono fortissimo e rotolante mentre il cielo pareva spaccarsi in due che ne dite stava vicino a me sulla soglia e respirando forte per la rapida corsa mi guardava notai che mi ammirava natalia vladimirovna disse darei tutto al mondo per restare più a lungo così a guardarvi oggi siete incantevole i suoi occhi mi fissavano entusiasti supplichevoli il viso era pallido sulla barba e sui baffi brillavano gocce di pioggia che parevano anch'essi guardarmi con amore io vi amo disse vi amo e sono felice perché vi vedo so che non potrete essere mia moglie ma io non voglio nulla solo sappiate che vi amo tacete non rispondete non fate così ma sappiate solo che mi siete cara e permettetemi di guardarvi il suo rapimento si comunicò anche a me guardavo il suo volto ispirato ascoltavo la voce che si confondeva col rumore della pioggia e come incantata non potevo muovermi avrei voluto senza fine guardare gli occhi lucenti e ascoltare voi tacete e va benissimo disse pieter sergeic continuate a tacere mi sentivo felice cominciai a ridere per la contentezza e corsi in casa sotto la pioggia scrosciante e anche lui rise e a saltelloni mi seguì facendo gran rumore come bambini fradici senza fiato battendo i piedi sulle scale e rompemmo nelle stanze mio padre e mio fratello non avvezzi a vedermi ridente e allegra mi guardarono meravigliati e si misero a ridere anch'essi le nubi temporalesche erano passate il tuono taceva e sulla barba di pieter sergeic brillavano ancora le stille della pioggia tutta la sera fino all'ora di cena cantò fischettò giocò facendo un gran chiasso col cane rincorrendolo attraverso le stanze e rischiò perfino di rovesciare il servo col samovar e a cena mangiò molto disse molte sciocchezze e assicurò che se l'inverno si mangiano dei cetrioli freschi si sente in bocca odore di primavera andando a coricarmi accese una candela spalancai la finestra e un sentimento indefinibile si impadronì della mia anima mi ricordai di essere libera sana ricca di avere un cognome noto di essere amata ma specialmente di essere di casata illustre e ricca che fortuna mio dio poi granicchiandomi nel letto per il freddo leggero che era salito verso di me dal giardino con la rugiada cercai di capire se amavo pieter sergei o no non avendo concluso niente mi addormentai e quando al mattino scorsi sul letto i raggi tremuli del sole e le ombre dei rami dei tigli la mia mente risuscitò vivamente la scena della sera prima la vita mi parve ricca variata piena di fascino canticchiandomi vestì in fretta e scappai nel giardino e poi? che cosa accadde? e poi nulla in inverno mentre eravamo in città pieter sergei ci veniva di quando in quando a trovarci i conoscenti della campagna sono affascinanti solo in campagna ed estate in città e d'inverno perdono la metà del loro incanto quando in città offri loro il tè ti pare che portino degli abiti altrui e che non la finiscano mai di rimescolare col cucchiaino nel tè anche in città pieter sergei ci parlava qualche volta d'amore ma l'impressione non era più quella della campagna in città sentivamo più fortemente la muraglia che ci separava io ero ricca e di casate illustre e lui era povero non era neanche nobile figlio di un diacono e sostituto giudice istruttore e nient'altro tutti e due io per la mia giovinezza lui dio solo sa perché ritenevamo questa muraglia troppo alta e grossa e lui venendo da noi in città sorrideva forzatamente e criticava il bel mondo e taceva tetro quando c'era qualcuno nel salotto non c'è muro che non si possa forare ma gli eroi dei romanzi moderni per quanto io li conosco sono troppo timidi indolenti pigri e diffidenti e troppo presto si rassegnano all'idea che non hanno fortuna che la vita personale li ha ingannati invece di combattere criticano e chiamano il mondo triviale dimenticando che la loro stessa critica finisce per essere una trivialità ero amata la felicità era vicina pareva essere al mio fianco vivevo spensierata senza cercare di capirmi senza sapere che cosa aspettassi e che cosa desiderassi nella vita e il tempo passava 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 mi passavano accanto gli uomini con il loro amore fuggivano i chiari giorni le tiepide notti cantavano gli signori il fieno odorava e tutto ciò che è caro e prodigioso nel ricordo per me come per tutti passava rapido senza lasciar tracce non apprezzato e spariva come nebbia dov'è ora tutto ciò il babbo morì io invecchiai tutto ciò che mi piaceva mi lusingava mi dava una speranza il rumor della pioggia il rombo del tuono i pensieri di felicità i discorsi d'amore tutto ciò è diventato un puro ricordo e io vedo davanti a me un lontano uguale deserto nel piano non c'è anima viva e là sull'orizzonte è scuro spaventoso un colpo di campanello a Pietersevgeich quando nell'inverno vedo gli alberi e ricordo come verdeggiavano per me nell'estate mormoro oh miei cari e quando vedo gli uomini con i quali ho vissuto la mia primavera sento una tristezza un tepore e bel petto sempre lo stesso da da molto tempo per la protezione di mio padre Pietersevgeich è stato trasferito in città è un po' invecchiato un po' malandato da un pezzo ha smesso di parlarmi d'amore non dice più sciocchezze non è contento del suo servizio è sempre un po' malato deluso di qualcosa dice addio alla vita e vive senza voglia di vivere ecco si è seduto davanti al camino e guarda il fuoco in silenzio io non sapendo che dire ho domandato che c'è dunque niente ha risposto lui ed il muovo il silenzio il riflesso del fuoco saltellava sul suo viso triste mi sono ricordata del passato e a un tratto le mie spalle hanno sussultato la testa si è abbassata e ho pianto amaramente sentivo una intollerabile pietà di me e di quell'uomo avrei voluto appassionatamente ciò che è passato e che ora la vita ci rifiuta ora non pensavo più che sono di nobile casata e ricca si inghozzai forte premendomi le tempie e balbettai mio dio mio dio la vita è perduta ed egli sedeva taceva e non mi diceva non piangete egli capiva che bisogna piangere e che era venuto il tempo delle lacrime vedevo dai suoi occhi che aveva pietà di me e anch'io avevo pietà di lui e insieme irritazione per quel timido vinto che non aveva saputo creare né la mia vita né la sua quando l'ho accompagnato nell'anticamera mi è parso che bella posta abbia indossato lentamente la pellizza due volte in silenzio mi ha baciato la mano mi ha guardata nel viso in ondato di lacrime penso che in quell'istante si ricordasse del temporale delle strisce oblique della pioggia delle nostre risa del mio volto di allora avrebbe voluto dire qualche cosa sarebbe stato felice di dirmela ma non ha detto nulla e solo ha scosso il capo e mi ha stretto forte la mano che dio sia con lui dopo averlo accompagnato sono tornata nello studio mi sono seduta di nuovo sul tappeto davanti al camino la braccia ardente si copriva di cenere si spegneva poco a poco il gelo ancor più irritato ha cominciato a battere alla finestra e il vento a cantare qualche cosa nel turbinio del camino è entrata la cameriera e credendomi addormentata mi ha chiamata dante voce l'euro di a